C'è Anna che mi ha portato la colazione, c'è l'Ortolano e c'è anche la ragazza che è la libreria. Quindi abbiamo fatto un listino per tutte le cose che Anna ha bisogno, senza chiedere a nessuno un'aiuto da nessuna parte. Siamo partiti da soli. Non solo a Pasqua, Mohamed, Mario per tutti, a Gavinana, si dà da fare per gli altri da quando è arrivato in Italia dall'Egitto. Airstylist professionista, durante il primo lockdown, si è occupato delle persone più bisognose del quartiere, portando loro beni di prima necessità a sue spese. Adesso è il capo squadra di una serie di negozianti e professionisti che si sono mobilitati per aiutare 25 profughi ucraini che hanno trovato alloggio nel punto di accoglienza di Via di Ripoli. Abbiamo fatto sentire che non sono da soli, che non sono isolati, sono la parte della nostra famiglia. Non c'entra che non parli l'italiano, non c'entra che ti viene dall'estero, non c'entra che ti viene dalla guerra. Qui siamo tutti uguali, siamo tutti insieme, ma hanno aiutato anche il quartiere della popolazione italiana, del quartiere di Gavinana. Tutte le persone, senza chiedere il nome, vengano, cosa hanno bisogno? Ho bisogno di questi, li portano, senza chiedere niente. Questa è la società nostra. Il motore è Mario, questo non c'è dubbi. Lui ci trascina. Noi ci limitiamo a dare i nostri prodotti, molto volentieri perché comunque sia una buona causa. Il motore è Mario. Mario veniva a fare le spese da me, sapendo le sue intenzioni, anche volentieri, io ho anche dato una mano. Come psicologa io ho nel quartiere un'associazione che lavora già a livello gratuito, offrendo servizi a quelli del quartiere che vogliono, hanno bisogno diciamo, o di cancer, di mediazione familiare o psicoterapia. In questo caso ci siamo resi disponibili anche per fare questo tipo di servizio, chiaramente con intermediario culturale perché non abbiano lo strumento della lingua, sarà sicuramente un problema.